L'incontro che c'è stato qualche giorno fa tra Papa Francesco e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti, che al Santo Padre ha consegnato la bozza per il Sinodo Nazionale della Chiesa Italiana, tre i capisaldi del documento. Scopriamo quali sono nel servizio. Papa Francesco lo aveva definito un percorso di catechesi capace di coinvolgere le comunità e tutte le diocesi. La richiesta era stata rivolta ai vescovi che adesso hanno preparato una bozza per avviare il Sinodo Nazionale della Chiesa Italiana rispettando la volontà papale. Il documento è stato presentato al Santo Padre nei giorni scorsi dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti. La bozza si basa su tre pilastri che diventano elementi imprescindibili nel processo sinodale. Il primo è rifarsi all'Evangelii Gaudium, dove il Papa esorta una conversione pastorale, sottolinea il Cardinale, e i media vaticani. Il secondo è rappresentato dalla fraternità solidale, che naturalmente si esprima nei fatti, una prossimità che i cristiani devono vivere, dichiara il porporato a Vatican News. Il terzo aspetto è un'accentuata formazione ecclesiale. Mi sembra che sia il terreno su cui ci si debba muovere, le aree principali di questo impegno sinodale, precisa il Presidente della CEI, che conversando con il media vaticano si è soffermato anche sul calo della frequenza alla Messa. E' preoccupante, sostiene, anche se dovuto a tutte le limitazioni che sono necessarie per contenere il contagio da coronavirus. Mi sembra, è stata la riflessione del Cardinale Bassetti, che anche soprattutto nei giovani, nei ragazzi, nelle famiglie, si è entrata una mentalità molto privatistica in questo senso. Alla Messa ora è difficile vedere dei ragazzi e dei giovani, così la sfida è riavvicinare tutto il mondo giovanile alla Chiesa. La pandemia ha diffuso paura nella gente e noi sappiamo che più aumenta il timore e la diffidenza e più diminuisce la speranza e la preoccupazione del Cardinale, convinto che bisogna lavorare tanto per elaborare delle proposte di vita cristiana e vanno recuperati anche il senso della collaborazione e il valore della progettualità. Il percorso sinodale per questo partirà dal basso, come è suggerito dal pontefice, per riuscire a intercettare le priorità per la Chiesa italiana. Bisogna dunque un po' agitare le acque della vita dei cristiani, che sono diventate, conclude Bassetti, ancora più stagnanti a causa dell'emergenza coronavirus.